segreteria generale o salve sì sì salve 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 lei la nuova consigliera comunale bene bene complimenti complimenti e buon lavoro voleva alcuna informazione nessun problema può chiedere di riguardo a cosa come funziona il sistema allora ovviamente lei è stata neoletta avrà già partecipata alla seduta d'insediamento adesso dalle prossime sedute del consiglio ovviamente ci saranno all'ordine del giorno vari punti sui quali delibererete quindi se si forma la maggioranza potrei sì 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 le maggioranze variano a seconda dell'oggetto della delibera ma tendenzialmente è la maggioranza semplice il 50 per cento più uno dei presenti quindi siete 21 consiglieri se in 11 votano a favore la maggioranza c'è sempre ovviamente se sarete presenti in 15 8 sono sufficienti per approvare la maggior parte delle delibere no 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 statuto e atti fondamentali no ma la maggior parte delle delibere possono essere approvate a maggioranza semplice quindi ovviamente dovete contarvi prima del perfetto sì no 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 ogni riunione di consiglio è diciamo si svolge in un giorno e vengono prese varie decisioni in una riunione di consiglio si possono adottare 8 10 20 deliberazioni poi il verbale della seduta si trasforma in delibere ma diciamo 5 giorni 7 giorni 3 giorni questo dipende dal lavoro che deve fare la segreteria perché ovviamente va estratto diciamo il contenuto della delibera e poi formalizzato attraverso appunto l'atto se la delibera è immediatamente eseguibile quindi c'è la maggioranza assoluta in questo caso è sempre 11 maggioranza assoluta a prescindere dal numero dei presenti e votate con deliberazione a parte l'immediata eseguibilità la delibera è immediatamente eseguibile quindi il giorno stesso può essere eseguita anche se per il consiglio è piuttosto raro tranne quelle finanziarie altrimenti occorre aspettare da un lato appunto che si trasformi in provvedimento deliberativo dall'altro che venga pubblicata all'albopretorio sì sì online online non c'è più l'albopretorio fisico una volta che viene pubblicata all'albopretorio questa diviene efficace decorsi 10 giorni quindi non immediatamente no 15 giorni è il tempo in cui rimane pubblicata quindi lei la troverà pubblicata online per 15 giorni ma il decimo giorno diviene esecutiva e quindi diciamo produce i suoi effetti a meno che come abbiamo detto non viene dichiarata l'immediata eseguibilità sì su per giù la stessa cosa vale per la giunta la giunta ha lo stesso meccanismo ovviamente lì quasi tutte sono immediate eseguibilità perché è la maggioranza e quindi voterà sempre all'unanimità a favore no le determinazioni dirigenziali sono tutta un'altra cosa determinazioni dirigenziali vengono prese tutti i giorni il consiglio sa se riunisce una volta al mese la giunta una volta alla settimana i dirigenti tutti i giorni adottano atti dipende dipende la loro efficacia è immediata se non ha riflessi finanziari non c'è il visto di regolarità contabile allora qualunque determina dirigenziale è immediatamente efficace dal momento della sottoscrizione poi se si riferisce ad obblighi di un terzo gli dovrà essere notificata lì c'è la fase integrativa dell'efficacia ma non è legata alla pubblicazione in albo pretorio o alla pubblicazione di un'amministrazione trasparente quella è legata allo specifico provvedimento se è una determina di impegno di spesa diviene efficace una volta che ha posto il visto sì della cenere capo sì 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 e no dipende dipende di solito il giorno stesso il giorno dopo dopo dei giorni dipende anche dalla complessità a volte viene diciamo bloccata per chiarimenti può passare anche una settimana dipende dal tipo di determinazione e da come è stata realizzata ma insomma normalmente due tre giorni sì sì poi vengono pubblicate regolarmente ma non è quello il momento in cui si considera efficace dipende dal contenuto della singola determina no 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 non è che ci sono solo questi atti ci sono le delibere ci sono le determini poi ci sono gli atti amministrativi ordinari le lettere le comunicazioni le pec che non viaggiano attraverso il canale dei provvedimenti dirigenziali ma sono sempre comunicazioni atti amministrativi non normalmente non sono provvedimenti nella maggior parte dei casi i provvedimenti assumono la forma della determina del decreto del o degli altri provvedimenti e poi ci sono ovviamente le ordinanze o i decreti del sindaco certo certo quelli sono a parte no quelli non sono soggetti a parere di regolarità anche se la proposta viene spesso dagli uffici parere sì sì sulle delibere tutte le delibere prima che vi arrivino in consiglio sono state oggetto di parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile se necessario quindi quando voi deliberate avete diciamo a corredo anche questi pareri dopodiché la delibera di consiglio e di giunta procede non le ordinanze e decreti sindacali e ovviamente le determini come detto hanno l'attestazione di regolarità del dirigente che la firma e eventualmente il visto questa una breve sintesi è poi diciamo la normativa è il testo unico agli enti locali 267 del 2000 per la maggior parte delle cose che le ho detto beh nessun problema quando vuole richiami tranquillamente arrivederci salve salve